Arcadius Milik ha parlato del suo futuro dopo il ritiro con sua Polonia, nelle dichiarazioni riportate dall'ANS a Juventus Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è possano trovare un accordo e sarei felice di restare a Torino io sto bene so che Allegri mi vuole mia speranza e si trovi presto un accordo. Le ultime Milik, approdato sotto mole in prestito con diritto di riscatto scorsa estate, conferma sua grande voglia di restare a Torino e continuare sua avventura in bianco-nero. I contatti con il Marsiglia sono ripresi e Max Allegri ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera di voler puntare ancora su di lui. Giovanni Manna e Francesco Calvo stanno lavorando per trovare un'intesa che possa accontentare tutti. Nonostante il brusco rallentamento avvenuto tra aprile e i giorni scorsi visto che la Juve ha deciso non esercitare il diritto di riscatto in suo possesso per 7 milioni più due bonus, pagabili in tre anni. Il Marsiglia ha preso atto della situazione e, di recente, ha nuovamente aperto le porte a una nuova trattativa. Il club francese cercherà a mantenere il più possibile quella valutazione, accettando l'ipotesi di altro prestito ma questa volta con riscatto garantito su questo bisognerà lavorare nei prossimi giorni. La qualificazione alla Champions League non è una condizione sufficiente condizione rassicurante per il Marsiglia tra quelle pensate per far scattare l'obligo. Pensiamo piuttosto a un eventuale piazzamento europeo, insieme a numero presenze non eccessivo.